Il difensore civico regionale Umberto Di Primio traccia un bilancio dei primi sei mesi di sua attività che ha raccolto dal compianto Giandonato Morra. Il volume delle richieste di intervento della difesa civica acquisita nel 2023 ammonta circa 420 pratiche per una mole documentale di oltre 1.400 protocolli. La lieve flessione negativa rispetto all'anno passato è stata determinata ovviamente dalla sospensione delle attività. Le aree di intervento sono state ambienti, assistenza sanitaria, assistenza sociale, diritto allo studio istruzione e cultura, gestori di pubblici servizi, lavoro, urbanistica, pubblico impiego, telecomunicazione e telefonia. Nei primi mesi del 2023 sono state adottate 24 decisioni, 7 accolti. Per la difesa civica la media delle valutazioni date dagli utenti intervistati risulta attestarsi su valori alti. Molti cittadini si rivolgono alla difesa civica perché non hanno denaro da spendere magari al tarra. I prossimi obiettivi saranno la predisposizione e la pubblicazione di FAQ sul sito istituzionale e un'azione di miglioramento totale dell'azione del difensore civico. Un dato che viene anche certificato dai numeri che abbiamo a disposizione. C'è una richiesta di attenzione da parte della difesa civica nei confronti delle pubbliche amministrazioni da parte di molti cittadini che si rivolgono a noi e devo dire che già in questi primi tre mesi abbiamo avuto più di 500 accessi alla difesa civica, 134 sono già le pratiche che abbiamo trattato. Questa la che tengo a sottolineare è che la difesa civica non è un censore nei confronti di alcuno ma è invece uno strumento a disposizione dei cittadini ma anche a favore della pubblica amministrazione perché si possa avere finalmente quell'avvicinamento tra le esigenze del cittadino e quelle della pubblica amministrazione. Spesso basta una telefonata da parte del nostro ufficio per risolvere problemi che sembrano insormontabili e questo l'obiettivo. E per far questo io ho voluto da subito mettere nelle linee di mandato del mio ufficio proprio l'attenzione nei confronti dei cittadini ma anche delle istituzioni per questo con ANCI in particolare, cioè con l'Associazione dei Comuni ma anche con l'Università di Chieti e con alcuni soggetti istituzionali stiamo prevedendo una serie di incontri di formazione degli operatori degli enti locali ma aperti ai cittadini per far conoscere il diritto di accesso ma anche tutte quelle che sono le forme di utilizzo del difensore civico.